Ciao, oggi mi trovo a Moncaglieri, in via San Giovanni Bosco, numero 16. Si tratta di una via riservata, residenziale, vicinissima a Corso Roma e a Corso Trieste, che è una delle arterie principali che collega direttamente Torino con Corso Unità d'Italia. Siamo a poco più di un chilometro dalla nuova fermata metropolitana di Piazza Vengresi e dallo snodo per le autostrade. L'appartamento che vi sto proponendo in vendita si trova al sesto piano, che per chi soffre di vertigini non è l'ideale, ma ti dà il beneficio di godere di luminosità, una bella vista ed i rumori sono decisamente più contenuti. Internamente è composto dall'ingresso che porta la zona giorno a Continelle e Cucilino e un ampio balcone profondo che arredato a proprio gusto potrà diventare un secondo spazio per i vostri pasti all'aperto e la vostra zona relax. Torniamo all'ingresso, passando dal disimpegno, dove vi è una seconda camera, la camera da letto e il bar. Oltre ci sono la soffitta e la cantina. Come avrete visto, l'appartamento non è completamente arredato. Questo vi avrà fatto intuire che non è più abitato costantemente. Se siete interessati potreste venirci a vivere da solito. Spero che sia la soluzione immobiliare che stai o che state cercando. Chiamaci per fissare un appuntamento per venirla a vedere di persona. Vi aspettiamo.